Siamo al resort di Antonello Colonna alla Bico che ha un messaggio particolare per la squadra del Frosinone. Ci tengo a precisare una cosa che ormai è notizia famosa ovunque, che io sono romanista accanito. Però vuoi il rispetto che ho del caro amico Maurizio Stirpe, una persona che ho sempre stimato, l'ho conosciuta non nel mondo del calcio ma nel mondo dell'imprenditoria, dell'industria. È anche un mio gradevole e notevole ospite sia qui a Resorte ma anche a Roma e in tante altre circostanze dove ci incontriamo per motivi appunto di lavoro, di attività. Ma questo sforzo che sta facendo per la città mi ha portato ad essere un grande tifoso del Frosinone. Io ormai non dico che sto abbandonando la Roma ma a noi romanisti è un po' risaputo, ci stiamo un po' demoralizzando. E niente, continuo a vedermi tutte le partite. Spero che un giorno il Presidente mi invita allo stadio a vederne una proprio lì con tanto di sciarpetta del Frosinone. E niente, forza Frosinone, speriamo che tornerà così pure io a metà strada tra Roma e Frosinone mi trovo due grandi gioielli del calcio. La Roma e il Frosinone. Anzi, il Frosinone e la Roma.